È un privilegio poterci accostare alla sua presenza, lodandolo e adorandolo. Amen. È un meraviglioso tempo quando possiamo arrivare in anticipo al culto, perché possiamo avere un tempo di lode e adorazione. Preparare i nostri cuori per la meravigliosa parola di Dio. Come dicevo all'inizio, quando abbiamo iniziato stasera, il centro del culto è il momento della parola, perché è Dio che parla a noi. La lode e l'adorazione prepara i nostri cuori per la parola, quindi siamo noi che ci rendiamo disponibili, e poi durante il tempo della parola è lo Spirito Santo che ministra le nostre vite e parla ad ognuno di noi. Quindi dà la persona accanto a te, stasera Dio ti parlerà. Amen. E se ci sono sordi, ne pregheremo. Amen. Che tu ci possa ascoltare. Abbiamo detto una cosa mentre stavamo dopo l'adorazione, che Dio non è impressionato. A volte noi nella nostra cultura napoletana pensiamo che più ci lamentiamo, più detto nel nostro gergo, più ci sbattiamo, più dice Dio, mamma mi puoi rielo. Dio non è impressionato da questo. Dio è impressionato dalla nostra fede. Il giusto vive e vivrà per mezzo della sua fede. Non dalle tue lacrime, non dai tuoi lamenti, ma dalla tua fede. Dio alla persona accanto a te, Dio rimarrà impressionato da quanto tu credi, da quanto grande sarà la tua fede. E non deve essere troppo grande, cari miei. Basta Gesù ha detto quanto un granel di senape, una piccola fede, è in grado di spostare una montagna che potrebbe raffigurare e rappresentare un problema nella nostra vita. Ma il giusto vive e vivrà per mezzo della sua fede. Noi dobbiamo essere liberati anche dalla nostra cultura naturale per prendere la cultura del regno di Dio, rinnovare la nostra mente. Ricordati una cosa importante, non mettere mai in discussione la parola di Dio, anzi mantieni di sempre aperto allo Spirito Santo. E voglio anche incoraggiarti a spegnere telefonini. Ti assicuro una cosa, Dio non ti chiamerà per telefono. Dio ti parlerà attraverso la sua parola. Quindi se avete il telefonino acceso, prendetelo e spegnetelo. Amen. Voglio darvi giusto qualche avviso perché se ho che siete tutti quanti in attesa di questo evento, domani incomincia il post incontro. Mi aspettavo tutti felici. Dici, amen, gloria a Dio. Mi aspettavo l'entusiasmo, la gioia. Domani inizia il post incontro. Alleluia, amen. Questa ci deve essere fame quando noi ci accostiamo alla parola. Quindi riprendiamo le classi di studio. Da domani dico qui a Casavatore, alle 19.15, dia alla persona accanto a te se devi fare il post incontro, se devi fare il post incontro, non mancare, alle 19.15, domani sera, settimana prossima, inizieremo con la scuola del discepolato. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Questo vale sia per Casavatore, sia per Pianura, sia per i quartieri spagnoli. Naturalmente il giorno forse cambia a quartieri spagnoli, però la settimana è tutto regolare. Vi ricordo anche che martedì abbiamo organizzato una turnazione delle varie zone. Grazie a Dio l'opera si sta allargando, stiamo presenti, come ben sapete, sia nella zona di Pianura, fuori grotta, sia nei quartieri spagnoli. Quindi stiamo lavorando e stiamo pregando che anche in quei posti possa nascere una forte leadership. cioè uomini, ripiene e donne e ripiene dello Spirito Santo che possono permettere ad altre persone di realizzare il progetto di Dio nella propria vita. Quindi faremo un esperimento, faremo una turnazione di martedì con i responsabili primari, secondari e futuri. Quindi un martedì saremo a Casavatore, un martedì saremo a Pianura, un martedì poi saremo tutti quanti insieme, poi staremo di nuovo ai quartieri spagnoli e quindi gireremo in modo da poterci incontrare con le varie persone delle varie zone. Quindi questo martedì per la gioia di Casavatore ci incontreremo qui. Amen. Mi faccio disquagliare, responsabile. Gloria a Dio, alleluia. Quindi questo martedì ci incontriamo qui alle 19.30. Pregate per il culto di Roma che abbiamo il mercoledì e così anche i quartieri spagnoli che abbiamo il sabato. Vi ricordo anche che ad ottobre abbiamo l'incontro e il reincontro. Le date sono state leggermente cambiate. Speriamo che siano le definitive. Non ti preoccupare, non intocchiamo il tuo matrimonio. Non ti preoccupare. Ma è dall'11 al 13 ottobre. Ok? E poi ci sta un altro appuntamento che dovete segnare nella vostra agenda. Quindi incontro e reincontro 11-13 ottobre. 25, dite 25, al 27 ottobre c'è l'incontro delle coppie. Marito e moglie, alzate la mano. Tu, le persone sposate. Amen. È proprio per te. Non devi mancare. Sarà un tempo speciale. Sapete, conoscete l'esperienza tanti di voi dell'incontro. È una esperienza meravigliosa. Amen. E stai solo. Poi quando stai con la tua metà, quindi stai completo, metà e metà, si completa, sarà qualcosa di speciale. Si ministrerà in determinate aree. Si parlerà del ruolo del marito, del papà, della moglie, della madre, dei figli, come poter aiutare i figli a realizzare il progetto di Dio nella propria vita. Dio interessato per la famiglia. e quindi noi vogliamo avere un incontro di tre giorni con le coppie. Ci apparteremo, saremo a mercogliano in questi tre giorni, ma saranno tre giorni speciali. Quindi prenotati per l'incontro delle coppie. Naturalmente per le coppie, tutti coloro che sono sposati. Amen. Adesso vogliamo passare alla parola e quindi la seconda parte del tema che tratteremo stasera, che abbiamo iniziato la settimana scorsa, fame di Dio. Di chi hai fame? Amen. E la mia preghiera è che ci sia questa grande fame nel nostro cuore. Quindi vi faccio un breve riepilogo per quelli che non erano presenti. Abbiamo letto un verso che si trova nel libro del profeta Amos, capitolo 8, verso 11, dove è scritto Ecco verranno giorni, dice il Signore, Dio. E quando Dio dice una cosa, Lui non mente. Amen. E coloro che hanno fede ci credono. Quindi ecco così dice il Signore, il Dio, in cui manderò la fame. Signore, manda questa fame. Nel paese non fame di pane, né sete di acqua, ma di ascoltare la parola del Signore. E noi chiediamo, Signore, che Tu ci possa riempire di questa fame in questa serata, riempire i nostri cuori affinché questa fame ci possa perseguire. Perché no? Perseguitare ogni giorno la fame di Te. E abbiamo visto una cosa importante domenica scorsa che la Chiesa ha bisogno di un grande risveglio. E il risveglio degli ultimi tempi sarà un risveglio di grazia e di amore. e abbiamo detto che ci sta una formula che non è una formula magica, è una formula divina. P-R-4. Dite P-R-4. Ci sono cinque lettere. La prima lettera è una lettera P e poi ci sono quattro R. E quindi abbiamo spiegato, chi vuole saperne di più si ascolta il culto anche sul sito, su internet, però darò alcuni accenni. Noi stiamo nella prima fase, la fase della purificazione della Chiesa che è il corpo di Cristo. E stasera è una fase conclusiva della parola che lo Spirito Santo mi ha dato e vi sto condividendo. Parleremo di quello che è successo nel Tempio di Gerusalemme quando Gesù era sulla Terra. Quello che lì ha fatto quando lì ha trovato nel Tempio determinate situazioni negative, dopo che lui ha fatto una pulizia, dite pulizia, poi si è manifestata la gloria. Amen? Tutti quanti vogliamo vedere i miracoli, è vero? Tutti quanti vogliamo vedere il soprannaturale che si manifesta, le moltitudini che corrono a Gesù e per con noi gli stati pieni non per seguire un pallone o dei calciatori ma per dare gloria a Dio. Questa è la volontà di Dio, questo è il desiderio di Dio e Dio lo sta preparando però la Chiesa affinché questo avvenga c'è...